Pensi di avere la SIBO? SIBO significa sovraccrescita batterica dell'intestino tenue. Oggigiorno è estremamente comune, ma viene spesso sottovalutata e non diagnosticata. Quanto è comune la SIBO? Tra il 6 e il 15% delle persone adulte sane può soffrirne, mentre oltre l'80% delle persone con la sindrome del colon irritabile ha la SIBO. Ma cosa è esattamente la SIBO? Quando si ha una dispiosi, ovvero uno squilibrio tra batteri buoni e cattivi nell'intestino, anche quei batteri benefici che normalmente vivono nel nostro intestino possono diventare offensivi e risalire fino all'intestino tenue. Lì possono insediarsi causando sintomi spiacevoli quali gonfiore addominale, aria, reflusso gastroesofageo, erutazioni, costipazioni e diarrea. Di recente, inoltre, molte ricerche scientifiche hanno correlato la SIBO a diverse patologie. Cosa puoi fare se pensi di avere la SIBO? Il team asse-intestino-cervello può aiutarti. Guidati dal noto nutrizionista dottor Shanti Coro, che vanta oltre 20 anni di esperienza nel campo, siamo un team di nutrizionisti professionali e preparati che può aiutarti a ottenere sollievo dagli spiacevoli sintomi della SIBO. SIBO. Perché soffrire? Sì.